Il miele di Coriandolo è il migliore d'Italia e lo produce l'azienda agricola Iannelli di Foggia. A San Cirlo è stato il prestigioso concorso Grandi Mieli d'Italia, che ha premiato il miele uniflorale di Coriandolo dell'azienda foggiana con tre gocce d'oro, il massimo riconoscimento. Rigorosamente bio, prodotto nelle campagne di reggente, tra Troia e Bicari, il miele dell'azienda apistica Iannelli Assunta è stato selezionato tra 54 mieli di Coriandolo in concorso. La cerimonia di consegna dei premi presentata da Patrizio Roversi si è tenuta la scorso 19 di settembre a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, sede dell'Osservatorio Nazionale Miele. Il concorso, coordinato da Lucia Piana, biologa tra le massime esperte a livello mondiale di analisi sensoriale dei mieli, è organizzato dall'Osservatorio Nazionale Miele, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole. I premi assegnati certificano qualità e provenienza, una garanzia per il consumatore che al momento dell'acquisto è costretto a districarsi tra qualità e i prezzi stracciati di mieli esteri.